Juventini con la G maiuscola, benvenuti nelle news del giorno. La Juventus già domani tornerà in campo. Sono contento che la Juventus gioca ogni tre giorni, nonostante, devo dire, i risultati di questo inizio di stagione non siano stati i migliori, anzi forse i peggiori, della storia. Però comunque adoro la Juventus, quindi adoro parlare con voi di Juventus e non vedo l'ora di guardare tutte le partite, nonostante quest'anno, possiamo dirlo, siamo in grande difficoltà. Però oggi vediamo un po' di news che girano attorno alla Juventus e devo dire che ce ne sono. Allora, prima di iniziare, come sempre, vi invito, se vi va, ovviamente mi dareste davvero una grossa mano a iscrivervi al canale, lasciando anche un vostro commento su quello che andrò ad affrontare. Perché a me piace tantissimo il confronto con voi e mi piace leggere tutti i vostri commenti. Allora, iniziamo subitissimo. Rinnovo di Dybala. Finalmente sembra arrivata la svolta decisiva che porterebbe il rinnovo di Paolo Dybala. Dico finalmente perché praticamente dall'anno scorso che se ne parla c'è stata una situazione abbastanza critica legata al rapporto che si stava un po' rompendo tra Dybala e la Juventus. Tra Jorge Antun e la Juventus, Dybala aveva una pretesa ben precisa e non aveva intenzione di ammorbidirsi di fronte alle offerte della Juventus. La Juventus invece che non si è mai arresa a concedere ciò che realmente Dybala chiedeva, ma ha continuato a rilanciare, rilanciare, rilanciare. Beh, devo dire che in questo rilancio ci sono stati dei rischi. Perché il rischio ovviamente più grande è quello di perdere Dybala a zero, che sarebbe una beffa clamorosa. Andresti a perdere un calciatore da un valore davvero importantissimo a zero, quindi diciamo sarebbe stata una beffa. Sappiamo che in questi ultimi anni tantissimi giocatori decidono di non rinnovare il contratto e di andarsene via a zero. Per esempio avviene il Milan che ha appena perso Donnarumma e c'è la Noglu in questo modo qui. E tra l'altro Cassi ha annunciato di non voler rinnovare. Quindi è un esempio che vi voglio portare per farvi capire che comunque perdere un calciatore importante a zero ovviamente non fa piacere alla società. Certo che in questo momento i calciatori hanno il coltello dalla parte del manico. Però mi fa piacere che in questo momento pare che settimana prossima possa essere la settimana definitiva con un'evidenziata sopra la parola definitiva. Perché Jorge Antun ha già avuto un contatto telefonico con la dirigenza della Juventus e si sta discutendo solamente sui bonus. Quindi accordo sembra essere praticamente ai dettagli. E ripeto, dopo tanto tempo finalmente possiamo parlare di un rinnovo molto probabile di Paolo Di Bala. Altro tormentone estivo, praticamente era stato dato alla Juventus da tutti i giornali e da moltissimi media. Parlo di Gigio Donnarumma che in realtà poi ha scelto Parigi. Paris Saint Germain non l'ha pagato. Gli ha pagato solo un grandissimo ingaggio, ovviamente una grande commissione anche a Minoraio. Donnarumma in questo momento, secondo tantissime testate giornalistiche e anche di nota importanza, sembra, anzi è assolutamente scontento a Parigi. Semplicemente perché non gioca. Gli preferiscono Keylor Navas. Quindi Donnarumma diciamo che si è un po' pentito della scelta che ha fatto. E ovviamente, visto che nella Juventus Chesney sta iniziando a perdere qualche colpo, soprattutto nelle prime partite. Ma poi vi dico come la penso e insomma ci confronteremo. Ovviamente vuoi non creare un po' di confusione e iniziare ad accostare già Donnarumma alla Juventus? Allora, io non so quanto ci sia di vero in quello che ho letto ieri su molte testate giornalistiche che la Juventus potrebbe riprendere Donnarumma. Addirittura a gennaio Juventus potrebbe prendere Donnarumma. Insomma, io la vedo davvero dura. Nel senso che io vedo una Juventus che ha Chesney, che è un portiere affidabile, nonostante abbia fatto due, anzi tre, sì, circa tre interventi che sono discutibili. Interventi che hanno tolto dei punti alla Juventus. Nonostante questo, nelle ultime partite comunque ha fatto anche un paio di parate, una con il Milan che avrebbe consegnato la vittoria ai rossoneri e una contro la Spal che avrebbe consegnato il 3-1 alla Spal. Insomma, decisive. Quindi Chesney non è diventato scarso dall'anno scorso a quest'anno, ha avuto un periodo no e io mi auguro che si sia definitivamente rialzato. Quindi, ovviamente, la situazione di Donnarumma, secondo me, è stata creata per creare un po' di scompiglio. E io credo che Donnarumma adesso inizierà a giocare al PSG, ne sono abbastanza convinto, anche per chi lo reputo in questo momento tra i tre portieri più forti del mondo, senza dubbi. Se dovesse poi arrivare alla Juventus, io sarei molto contento perché lo reputo, ripeto, un portiere fortissimo, poi è molto giovane, italiano e ha ancora tanto, tanto, tanto margine di crescita. Passiamo alla Juventus di oggi perché Allegri contro la Sampdoria, domenica alle 12 e mezza, festeggerà un traguardo importantissimo. La quattrocentesima partita in Serie A da allenatore ed è un traguardo davvero che fa capire quanta esperienza si porti sul gruppone Max Allegri. Un allenatore che è cresciuto davvero tantissimo, soprattutto al Milan, ma poi che è esploso definitivamente alla Juventus. Lui stesso utilizza spesso delle frasi che fanno davvero riflettere, non si smette mai di imparare e Allegri dimostra sempre che ha questa predisposizione al capire i propri errori e a cercare di trovare delle soluzioni che in futuro possano eliminare gli errori che in passato sono stati commessi. Quest'anno si è trovato di fronte a una situazione che secondo me è molto più grande di quella che lui immaginasse perché la Juventus è stata un po' sopravvalutata da Allegri. Ora che la sta allenando si sta rendendo conto che in realtà ci sono dei giocatori che non sono assolutamente da Juventus. Sta provando a trovare delle soluzioni, ma devo dirvi che l'ho visto davvero in difficoltà, sia sotto il punto di vista comunicativo, nonostante nelle prime partite sembrasse davvero, come dire, tranquillissimo, ma devo dire che dopo aver iniziato a perdere troppi punti, anche i microfoni, anche la lite con spalletti, insomma, degli episodi che mi fanno capire che Allegri non è proprio tanto tranquillo. E cerco di capirlo, però io davvero sono convinto di una cosa, se questa Juventus a fine stagione non raggiunge gli obiettivi, a tutti possiamo assolutamente appellarci, ma la squadra è il 90% dei problemi. Punto. La squadra è il 90% ovviamente oltre alla società che è compresa nella squadra, perché se la squadra è questa, ovviamente la causa è stata messa dalla società che non ha costruito negli anni, non ha ricostruito una Juventus, non ha avuto, diciamo, la bravura di creare un ricambio generazionale adeguato, ma ha preso giocatori totalmente a caso, a zero per delle occasioni, pagando poi degli ingaggi spropositati, adesso ci ritroviamo in squadra dei giocatori che sono assolutamente insulsi. Non dobbiamo guardare agli altri, ma dobbiamo guardare solo noi stessi in questo momento, questo è un messaggio che voglio mandare a tutti voi, perché ci sta che diciamo, oh il Milan ha perso, oh l'Inter ha perso, speriamo che perda il Napoli, speriamo che perda la Roma, ma poi se la Juventus non fa punti, possiamo sperare quello che volete, ma la classifica non la scaliamo. Quindi in questo momento lasciamo stare il Milan, il Napoli, l'Inter, la Roma, la Lazio, eccetera, concentriamoci solamente su noi stessi, perché abbiamo un duro lavoro da fare per ritornare dove meritiamo di stare, ovvero quantomeno nelle prime quattro, se la Juventus a fine stagione non arrivasse tra le prime quattro, allora sarebbero davvero grossi problemi, perché appunto sarebbe un disastro, una stagione disastrosa. Quindi concentriamoci, fidatevi su noi stessi, cerchiamo di appunto usare tutte le nostre forze anche per supportare la Juventus, cercando ovviamente anche loro, i calciatori, devono cercare di ricambiare il nostro affetto, perché noi di affetto glielo abbiamo sempre dato e sempre gliene daremo, perché siamo sempre, a parte i rari casi, tutti uniti, nonostante siamo molto critici, e questo lo riconosco, però penso anche in maniera giusta, quindi devono assolutamente concentrarsi, pensare solo a loro stessi, noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, e cercare di iniziare a scalare una classifica che in questo momento è davvero disastrosa. E poi vi lancio un'ultima provocazione in vista della gara con la Sampdoria, ma una provocazione che non è relativa alla gara con la Sampdoria, ma che potrebbe far riflettere. Allegri, ricordate, nel 2017 inventò quel 4-2-3-1, fece giocare Manzukic insieme a Higuaini, insieme a Quadrado, insieme a Dani Alves, insomma, insieme a Di Bala, degli attaccanti in tutte le zone del campo. Una Juventus superoffensiva, quanto superdifensiva. E io vi chiedo, ma secondo voi, e questo è un messaggio che vi voglio mandare, ma appunto, sono curioso di sapere la vostra risposta. Secondo voi, è possibile in futuro vedere tutti insieme in campo questi giocatori? Morata, Di Bala, Chiesa e Moise Ken. Una provocazione che vi lancio. Secondo voi, ad Allegri non scatterà questa scintilla, come nel 2017, per dire, guarda, io ho questi giocatori, non voglio privarmi di Di Bala, non voglio privarmi di Morata, non voglio privarmi di Chiesa, non voglio privarmi di Ken, vi faccio giocare tutti insieme. Con questa provocazione che vi lancio e sono curioso di sapere quello che ne pensate, chiudo questo video ringraziandovi per avermi seguito e ovviamente mandandovi appuntamento al post partita dei domani, Juventus, Sampdoria. Fino alla fine, forza Juve, un saluto a tutti, ricordate che siete degli Juventini con la J maiuscola. Ciao! Ciao!